Ha deciso di morire all'interno della sua azienda. Pare che da tempo non riuscisse a reggere più il peso delle difficoltà economiche che la ditta stava affrontando. Roberto Dian, 50enne, imprenditore, residente a Badia Polesine, è stato trovato privo di vita dal fratello nel capannone della sua azienda, la RGSRL, che produce mobili. La sede della fabbrica è a Castelbaldo. Qui Roberto Dian si è impiccato. Accanto al suo corpo una lettera nella quale l'imprenditore scrive di aver deciso di farla finita a causa delle difficoltà economiche. Poche righe per spiegare un grande dolore, un gesto che ha gettato nella disperazione la famiglia del 50enne. Per il Veneto l'ennesimo tragico epilogo di una crisi che ha segnato il nostro territorio e che nonostante alcuni segnali di ripresa non ha ancora finito di mietere vittime. Grazie a tutti.